ma chi è questa signorina che fai guardami un attimo ma che bella aspetta che vado dall'altro lato c'è più luce guardami fai vedere i capelli girati girati tutta blu stai giocando cosa guardi stai guardando un cartone si dai un bacio agli spettatori ciao a tutti ciao a tutti facciamo con la mano guardami 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 Grazie.